Che diavolo c'è in cabina? Babbo Natale. Rispondi. Perché sei entrato nella polizia? Perché voglio aiutare la gente. Ciao amico, niente di conoscente. David sarà il tuo nuovo partner. Perché ce l'hai a morte costa? L'ho ucciso il mio amico. Per il ciclo nel segno di Clint. Spara, cretino! Ci sarà un bel botto. Monique! La recluta. Questa sera, alle 21. Conibis.